Persino qua, in periferia, possono succedere delle cose che possono ispirare e impartire le ispirazioni di come si suol dire dall'alto, come ad esempio quella volta in cui ho incontrato Gesù. Quello vero. No, non ho spazzuto la testa. Vi giuro, cara lui, davvero. La barba, i capelli lunghi. No, non c'erano le colobbe bianche. Non era bollatunica bianca. Non aveva neanche la corona di spine, ma era lui. Stava subito ai castali, alla fermata dell'autobus. Vi giuro che era lui. Anch'io, quando l'ho visto, non ci credevo. Inizialmente mi sembrava uno del forte predestino, ma poi ho pensato no. Si vede. È lucido. E alla fermata dell'autobus, via dei castali, o è uno del forte predestino, o è Gesù Cristo. Non ci potevo credere neanche io. Tanto che la prima cosa che gli ho detto è stata... Gesù, ma sei tu? No, mi non necca di ora. Che poi, visto che si è avuto i figli dello stesso padre, sarebbe anche tuo nonno. Gesù, ma mi aspettavo almeno le colobbe bianche a cuore. Eh, c'erano. Se sono mangiato i campieni. E succedono, aspetta il 5-4-2. Mortecci, Sura. Che poi, visto che siamo tutti figli dello stesso padre, sarebbero anche i morti nostri, pensai. Ma non glielo dissi. Gli chiesi solo... Ma perché tu stai aspettando il 5-4-2? Perché? Per fare la venuta di Cristo cosa dovrei prendere? Il 4-50? Guarda, tu quindi stai facendo la venuta di Cristo? Eh, detto fra noi non era in programma, ma noi ti rischiamo sempre di più, per le bestemme, piccolo. Ah, ecco perché sei venuto a Roma, oltre al Papa, immagino. Comunque, Gesù, ti garantisco che io non bestemmio. Quasi mai. Che fai male? Fai male? Ma perché mi guardi così? Scusa, eh. Ma tu lo sai di chi è il protettore San Nicola di Belli? Sveglia! Di chi è il protettore San Nicola di Belli? Delle prostitute. Perché invitano a corsi soldi necessari per aiutare delle ragazze che rischiavano di essere sfruttate dal padre. E cosa protegge Santa Lucia? La vista. Perché in vita le hanno strappato gli occhi. Hai capito la procedura? Ora, secondo te, io che so a Vivi Croce con l'accusa di bestemmia, di chi dovrei essere protettore? Non so perché, ma in quel momento mi venne spontaneo. Spalancai le braccia e urlai contenta qua? Ehi, che è questa conversione improvvisa? Devi bestemmiare con un metodo. Bestemmia, ma con moderazione. Gesù, scusa, eh, ma non ho ancora capito. Tu vuoi fare la venuta di Cristo iniziando su un autobus. Al dirvelo dove devo iniziare? Io me ne sto andando. Quanto mi prendi pativa quando fai quella faccia alla deficiente? Me ne sto andando. Ho finito. Finito. Con cetocele, alessandrino, te lo spaccato, te lo pigliattato, te lo prenause. Prendi un attimo, gli dissi io, ma quando è che hai iniziato? No, io mica ti ho visto. Eh, il problema è questo. Non mi ha visto nessuno. Era più facile l'ultima volta. Sì, si incazzavano, ti arrestavano, si lavavano le mani, ti mettevano in croce. Ero pronta a rifare tutto l'iter, pensato un po'. Ormai lo sapevo. Detto fra noi, mica speravo in chissà quale è successo con questa venuta, eh. Ma mi ero ripromesso. Se finisco un'altra volta sulla croce, distruggo l'umanità intera e passa. Tutto mi si è rispettato. Tranne che pugnodasse, no. Devo lavorare, ma poi si lagliano che non ci sta il lavoro e che non è soddisfacente. Devono fare figli, devono pensare figli, come se gli avessi detto io di scopare senza riservare in qua. Ecco, di nuovo quella faccia. Ma secondo te, con tutti i cazzi che ci stavano nel mondo, se proprio mi devo incazzare, sto pensando a te che scopo. Allora scusate, perché non devo incazzare di quando fate i piccoli? Sui prati. Sentiamo, lei. Perché non devo incazzare per quel motivo? Vi sedete, schiacciate le formiche senza neanche accorgermene. Ammazzate esseri viventi. È una metafora. Metafora o un cazzo? Io sono chiarissimo. Siete voi che avete stati in stazione di dover interpretare le cose? Come le scritture che interpretate la cacciata dei mercati dal tempio. Stavo dando i discepoli, 70. Mica gli apostoli che erano 12. I discepoli erano 70. In 70 sfasciare tutto il mercato, che era la fonte di sostentamento principale del luogo più grande e importante di Giuseppe. Beh, un gesto simbologico... Si chiama il tentato terroristico, azione di donna. E quando avete notti i coglioni con questa storia della mandalena, infatti la confondete con l'episodio della prostituta, ecco, la forse ho sbagliato un po' io, lo ammetto. E sì, ho sbagliato perché ho detto chi non ha commesso mai peccato scaghi la prima pietra. Eh, avevo sopravvalutato la coscienza. Dovevo dire chi ritiene di non aver commesso mai un peccato grave si faccia la prima pietra. E certo, avete trasformato la vostra esistenza con la gara di chi è meno peggio. Io non sono razzista mai. Ho tante amici che... Non tutti gli uomini fino ad arrivare alle pulci scagolate nei partiti politici. Non mi fate parlare di politica. A proposito di chi pensi ci stanno peccati di serie A, peccati di serie B, ho ragioni superiore per commettere peccato. Vi aspetto. Voi che avete inventato valori. Vi aspetto. Voi che avete creato divisioni. Vi aspetto con i desagri confini delle disperità di genere. Con quella cazzo di magari etichettare, confinare, distinguere. Ma proprio non mi entri in testa che sarete tutti ceneri. Nell'aria. Provoghi più degradati. E all'aria non ci penso io, eh. Per ogni razzista ho già dato istruzione a San Pietro. Mi raccomando, appena rivedi avvicinarsi al paradiso, spaga il vista. Perché mi sembra così stessa? È la vostra legge, no? All'altima è scherzato. Forse. Non so, mi ricordavate come il padre dei misericordiosi, ma che ci volete fare? Evidentemente la croce fa diventare un po' più incazzosi. E poi, che ve ne fate la mia misericordia? Spiegatemi. Per cosa? Per alimentare alcune di cattivorari, infratissimi? Ma quant'aria si tratta le piante? Quanta aria si tratta le piante per uccidere il buon senso, tra l'altro. È devecato il pensiero e la critica un pochino di incenso. Che poi, se dovete far fumare per forza qualcosa, tra l'altro il mio nome, ma usate almeno dopo a ora. Comunque, non ho capito perché inizio questo discorso. Ah, sì, 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 è il fatto che scopi. La vita è un'altra. Mi dispiace dirvelo, ma non esistere è anche una colpa. Mi sembrava evidente, anche perché, l'avevo già detto, no? Se Dio è amore, amatevi gli uni con gli altri, dice niente. Anzi, facciamo sì, adesso è più. Amatevi gli uni con gli altri, meglio se strafatti. Va bene? Così vedremo finalmente il tanto agognato spirito santo. Ci sarà la pace in terra, l'amore sarà immenso, basta e non vi senta più parlare di regno dei cieli. È un controsenso che c'entra in potere con me. Ve l'avete attribuito voi per farvi un perfetto capre spiatorio. È impossibile da perseguire, tra l'altro, così vi chiedete di aver risolto il crucio delle vostre aspirazioni infrante e credete di aver giustificato il vostro fallimento. Poi mi succede. Dal cielo piove e merda. L'uomo mi sta vicino. No, è un po' di inquinamento che sta di cazzo. E allora, preghiamo, preghiamo davanti all'immaginetta sacra. Ma vaffanculo, io gli idoli, le statuine, le tavolette, le prendevo a sassate. Mi fanno schifo. Insieme alla donazione e ad ogni altro accesso alle porcherie. E anche qua, complimenti, complimenti davvero per lo spirito d'osservazione. Accettatevi l'altro mio più grande, però... Consiglio della croce. Non lo so, a me sembra una precauzione. Non si sa mai che la Sabrina del Dio dove sta prendere la vita. Lo mettiamo agonizzante, coi chiodi, così non si può muovere stanzi. Se il percorso è tornato, cresciuto, risorto addirittura... Ma perché lì ti guardate la tutela davanti all'immagine di un morto? Ah, ovviamente è chiaro che per il paradiso non vi si vende, cioè è pura fantascienza. Ma non lo scelto io, l'avete scelto voi. E sì, l'avete scelto voi, perché l'avete inventato voi, quel paradiso là. E pensate che dopo aver ascoltato le vostre interpretazioni, vi avevo pure dato gli strumenti per il libero arbitrio. Vi li avevo dati. La responsabilizzazione. No, non basta la responsabilità. Devi esserlo tu. E deve esserlo anche il prossimo tuo. E se non lo è, sono cazzi voi. Perché se il prossimo tuo non è il responsabile, il tuo paradiso diventa inferno. E non è una profezia, è illogica. E non me ne frega nulla poi se incontate me, perché la vita mi va a buttare, o quello poteva essere paradiso e avete fatto diventare inferno. Perché vi sembra così strano? Si chiama libero arbitrio. Non ringraziatemi per ciò che fate. Non chiedete ciò che gli manca, ma anche chiedete perdono. Ascoltoci, signore. Ma per cosa? Merito vostro, colpa vostra, angeli, demoni, Yahweh, Allah, signori, Dio indominato, sono sempre, sono cazzi vostri. Certo. Potrei anche avere tutto. Ma se sono proprio Gesù. Quello dell'alto dei cieli, se vi piace così tanto, da come provocazione, è una grafica. Allora, guardiamo con questo cielo. Avete mai visto un confine? Posso passare per le periferie e quante volte mi pare? Cento cieli, d'Alessandrino, Torre Spaccato, Torpiglietta, la Torre Laura. Ma il primo confine del superare non è quello che separa un quartiere centrale o non un centrale. Il confine di cui l'ho suonato è dopo tutte le volte lì che ti hanno fatto subire. È quello che separa quello che vuoi da quello che sei. Quello che sei da quello che fai. Quello che fai da quello che potremmo essere. Tutte le persone. Per anticipare sarebbe già un buon inizio. Restai a guardarlo in silenzio per un po', in un angolino della fermata. Poi mi presi di coraggio. Gesù, allora ci distruggerai? Non mi siete saldati e non mi siete condannati. Ci devo pensare. Quelle parole mi fecero tornare il buon umore. Di colpo. Ma allora siamo ancora in tempo. Lui si affacciò in silenzio sulla strada. Rispose soltanto... Ehi! E' una stabile Roberto Vizima.